ciao a tutti oggi volevo sfatare un mito che è un mito tra l'altro molto raccontato addirittura dagli educatori cinofili che è quello che basti far socializzare un cane quando è giovane perché questo cane poi non sviluppi aggressività intraspecifica per cui con soggetti appunto della stessa specie e per cui altri cani perché sfatare questo mito perché l'aggressività non è solo dato da un aspetto della comunicazione quindi è vero che se i cuccioli imparano fin da subito una buona comunicazione con gli altri cani soprattutto con soggetti tra l'altro più adulti e quindi non solo cuccioli tra di loro il la loro capacità di comunicare sarà più ampliata ma dall'altra parte non è altrettanto vero che basti fare questo perché il cane non sviluppi forme di aggressività perché perché l'aggressività ha sbagliate sfaccettature ci sono varie forme appunto di aggressività da quella territoriale da quella dal possesso aggressività da dominanza aggressività legati appunto ad aspetti competitivi anche che i soggetti hanno tra di loro agli aspetti della riproduzione quindi il fatto che i cani non siano aggressivi perché hanno socializzato fin da cuccioli è assolutamente un mito da sfatare e quindi cosa è importante fare con un cucciolo per limitare questo sì sicuramente potrebbe essere un bene frequentare puppy class ma è importante che le puppy class siano veramente situazioni ben strutturate dicevamo quindi come si struttura una puppy class la puppy class va strutturata con soggetti di taglia tutto sommato similari con età similari quindi dai tre ai cinque mesi d'età e questo serve perché perché i cuccioli continuino da quello che è stato il loro diciamo inserimento in famiglia a invece stare anche in mezzo ad altri soggetti canini dopo che appunto c'è stata la separazione invece dal resto della cucciolata in cui sono nati e questo comunque aiuta una fase di comunicazione che crea soprattutto nell'ambito dei cani se vengono anche inseriti dei soggetti adulti moderatori delle comportamenti più o meno idone nella fase appunto comunicativa ma perché dicevamo non questo non fa sì che non possano poi svilupparsi delle aggressività future perché appunto l'aggressività è una componente fondamentale anche delle relazioni canine e l'aggressività è un modo che hanno i cani anche per sviluppare delle loro dinamiche appunto naturali da questo punto di vista allora in che cosa dobbiamo essere attenti per sviluppare un'educazione sociale adeguata un'educazione sociale adeguata è un sviluppo completamente diverso che non è lasciare che i cani facciano tutto ciò che vogliono nella maniera più naturale possibile ma è cercare di collegare degli aspetti condizionanti ad esempio alla presenza del guinzaglio o nel momento in cui vengono fatte delle richieste ubititive per cui il cane capisca che in quei momenti c'è un controllo che poi sviluppare successivamente un autocontrollo del cane stesso di fronte a degli aspetti totalmente istintuali questo perché è importante perché se andiamo appunto a fare una passaggiata col nostro cane non è tenuto lui ad andare d'accordo con tutta l'universo canino attorno a sé ma sicuramente dovrà avere dei comportamenti più o meno adeguati proprio per la godibilità di questa stessa passeggiata di questi momenti appunto in cui incroceremo altri cani in cui creeremo una socialità educativa e la socialità educativa è semplicemente il fatto che più cani siano presenti tra di loro questa presenza non vuol dire ripeto che i cani debbano totalmente andare d'accordo tra di loro ma che debbano comunque avere dei comportamenti adeguati tra di essi è come se in un gruppo di persone noi dovessimo dire dobbiamo tutti avere dei comportamenti educati e la differenza invece deve essere dobbiamo tutti andare d'accordo è diverso non è che tutte le persone a questo mondo possono esserci simpatiche e con tutte andremo stra d'accordo ma con tutte se avremo dei comportamenti socialmente adeguati avremo appunto un aspetto educativo di rispetto e appunto di buoni comportamenti di fronte a loro ma questo non implica il fatto che tutti ci devono essere appunto simpatici e noi stessi dobbiamo essere simpatici per forza a chiunque quindi l'aspetto educativo l'aspetto comportamentale condizionante semmai di alcuni elementi appunto presenza del guinzaglio piuttosto che alcuni momenti di richiesta obiettiva da parte dell'essere umano devono essere diciamo quel margine di sicurezza che ci permetta di vivere con serenità il nostro cane in qualsiasi ambiente andiamo ripeto miti da sfatare è quello proprio del il cane che va d'accordo con tutti perché il nostro cane ad esempio potrebbe anche avere dei comportamenti socialmente adeguati ma questo non implica che lui debba accettare poi comportamenti inadeguati di altri immaginate se un nostro cane viene in una situazione di tranquillità serenità e viene importunato da un altro soggetto sarebbe così sbagliato che avesse un comportamento comunque aggressivo anche solo di allontanamento dell'altro soggetto credo proprio di no quindi cerchiamo di essere capaci anche noi gli educatori educatori cinofili di dare le giuste indicazioni di quello che è l'aspetto gestionale ed educativo diamo importanza a papi class diamo importanza ad aspetti di educazione sociale ma non diamo delle false idee e non creiamo delle false immagini educative che appunto basta far socializzare i cani condividetelo anche voi sui vostri social e mi raccomando iscrivetevi al canale youtube doc galaxy cliccate mi piace ciao un saluto da stefano grazie